Mi pare che il Green Pass d'agosto potrebbe diventare obbligatorio anche per i dipendenti di bar, ristoranti, pasticcerie, che ne pensa? Francamente la libertà del singolo individuo secondo me non è etico, non è giusto. È anche vero però che noi datori di lavoro abbiamo l'obbligo di prevenire all'interno dell'azienda la salute del nostro dipendente, degli altri dipendenti, di noi stessi e dei nostri clienti e degli avventori. Noi come azienda abbiamo deciso di vaccinare già i nostri dipendenti o fagli prendere comunque l'appuntamento per essere vaccinati. Siamo tutti, a parte gli ultimi dipendenti arrivati, vaccinati. Crediamo che il vaccino sia forse l'unica soluzione in questo momento per poter non chiudere che è la situazione peggiore che possa capitare all'azienda dopo tutto e l'abbiamo subito per un anno e mezzo. Chiedere il Green Pass a qualche cliente e non avere la vaccinazione forse non è la cosa più giusta. Io dal momento che chiedo il Green Pass a qualcuno mi sembra giusto averlo. Allora, l'obbligo dei dipendenti penso sia una cosa giusta perché uno che viene a mangiare all'interno e deve avere delle specifiche cose, nel senso la Green Pass o il tampone per poter accedere. C'è un controsenso e poi quando entra dentro magari viene servito da una persona che non ha gli stessi requisiti. Rimettere per l'ennesima volta la responsabilità di queste decisioni o della gestione giornaliera quotidiana del problema a noi commercianti, francamente a questo punto mi pare diventato un po' eccessivo. Quindi potrebbe essere un elemento di ulteriore difficoltà per trovare personale? Assolutamente, assolutamente è quasi impossibile perché sono giovani i ragazzi e la gran parte non è vaccinata. Penso che sia tutto sommato giusta come cosa, è una cosa che va a vantaggio di tutti.